Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo delle nuove Evadict XT8, scarpa da trail di Decathlon che vi proannuncio già, ve lo spoiler, ha un prezzo veramente esiguo, costano solo 80 euro ma che vi assicuro dà delle belle soddisfazioni per il prezzo al quale viene venduta. Adesso ve ne vediamo pregi rifetti all'interno della recensione completa. Inizio come al solito a parlarvi del peso di queste scarpe. Nel numero 42 vengono dichiarate su un peso di 325 grammi, grammo più, grammo meno mentre nelle 1.047 arriviamo sui 400, che ci sta. È comunque un peso abbastanza contenuto, nel senso è un peso molto simile a tante altre scarpe del settore quindi sul peso siamo lì, siamo lì come tante altre scarpe. Inizio come al solito a parlarvi della suola. Come potete vedere sono belle sporche ma perché la scarpa l'ho utilizzata veramente tanto e poi sul fatto di averla utilizzata tanto ne parliamo. È una suola che mi ha soddisfatto dal punto di vista dell'asciutto. Sull'asciutto non ha nessun tipo di problema. Ha un'attacchettatura molto aggressiva, quello sicuramente, e sul fango si sente nel senso che sul fango ha comunque un ottimo grip. Mi ha lasciato abbastanza insoddisfatto per quanto riguarda terreni umidi e bagnati. Vi assicuro che su terreni umidi io ho rischiato di scivolare tante volte, ho rischiato anche di farmi male proprio perché stavo scivolando, quindi diciamo che l'umido e il bagnato non è sicuramente il punto a favore di questa scarpa. Però per il resto, che dire, il grip non è davvero male, soprattutto la tacchettatura mi è piaciuta molto anche perché i tacchetti sono direzionati in modo opposto tra l'avampiede e il tallone proprio per aiutarci sia nella frenata che nella spinta. Finito di parlare della suola, passiamo all'intersuola. Qui troviamo un'intersuola in eva, materiale calensol, non so se si pronunci così, comunque è un materiale proprietario di Decathlon per le loro scarpe. Che dire, mi ha sorpreso anche lui perché comunque ha un buon ammortizzazione, un buon cushioning. Sulla reattività ci siamo finché non corriamo troppo veloce. Troppo veloce intendo quando magari iniziamo a scendere sotto i 5 al chilometro, allora si sente che sono un pochino troppo morbide. Però lì arriviamo a parlare anche di atleti di un certo livello. Ma in generale devo dire che mi è piaciuto l'intersuola davvero molto bene. Poi tra intersuola e suola non si sentono i sassi. Quando gli andiamo a calpestare, o meglio, percepiamo che stiamo camminando su un sasso perché comunque un pochino lo sentiamo, ma non ci fa male. Ecco, quel feeling che ci aiuta a capire cosa abbiamo sotto i piedi. Quindi anche l'intersuola, poi classico. L'intersuola molto classico, soprattutto nel drop. Abbiamo un drop di 8 mm. Non è super alta, non è super alta, nel senso che come potete vedere non abbiamo tanti centimetri, soprattutto sull'avampiede. Però questo non ci toglie che qualche gara di ultra possiamo farla senza tanti problemi. Poi vediamo però perché è pensata e perché gara è pensata questa scarpa. Saliamo e arriviamo a parlare di tutta la parte superiore, iniziando dal puntale. Un puntale, vi assicuro, bello duro. Potete prenderci a calci una roccia, un sasso, non sentirete assolutamente nulla. E poi la parte del puntale scende molto in basso, cioè non è proprio qualche centimetro all'inizio, è proprio bella grossa. E in generale questa parte è veramente molto protettiva, ma la scarpa in sé è molto protettiva. Questo perché poi tutta la parte protettiva corre lungo la nostra scarpa per arrivare fino al tallone. Per quanto riguarda invece la tua maia, è sì traspirante, diciamo che c'è un pochino di meglio in giro, però tutto sommato se la cava abbastanza bene, forse nelle giornate iper calde potremmo sudare un po'. Ma in generale va comunque a tanta parte di tomaia, bella traspirante, sia qua sull'avampiede sia attorno al collo del piede. Quindi diciamo che anche la traspirità non è male. E continuando arriviamo, visto che ve ne accendavo prima, a parlare del tallone. Il tallone è molto strutturato, è veramente abbastanza duro. Questo ci permette di utilizzare le scarpe nel caso siamo persone che magari non hanno una grandissima tecnica di corsa, perché sarà la scarpa a farci stare in carreggiata, a farci stare sul terreno. Quindi, che dire, anche il tallone bisogna amarlo, bisogna volerlo un tallone così perché se invece prefiamo una scarpa un pochino più morbida con un tallone così rigido magari rischiamo di sentire il piede un po' costretto. Ma se pensiamo di essere degli amatori, comunque un po' principianti, un tallone così è sicuramente buono. Per quanto riguarda il tallone, poi vi racconto che qua in alto la parte superiore è bella imbottita. Ha un'imbottitura che si sente. Non ho avuto vesciche, sfregamenti, nulla. Quindi anche qua è fatta molto molto bene. E visto che parliamo di parte superiore, vi racconto anche la linguetta. Anche la linguetta all'interno ha davvero tanto materiale e isola molto bene dai lacci e non si muove soprattutto. Cosa che mi piace molto nelle scarpe da trail per i venditori che la mettono è la taschina in alto sulla linguetta dove andare a riporre i lacci che secondo me è una piccola feature ma molto apprezzata e molto importante. E visto che ne parlavamo, lacci. Allora, il laccio in sé è molto semplice, molto classico, nulla da dire. Però non si sono spezzati, anche a tirarli molto non si sono spezzati. E in generale tutta l'allacciatura ha l'occhiello, comunque tutta la parte dove ci sono gli occhielli con parti termosaldate e questo ci permette di essere sicuri che la scarpa non si rompa. Cioè lungo andare, anche se serriamo veramente tanto, con tutte queste parti qua belle strutturate non avremo problemi di rotture. Per quanto riguarda invece l'allacciatura quando andiamo a calzare la scarpa, questa è veramente classica. Non ha un'allacciatura a calzino, è proprio veramente molto molto classica. E vi aggiungo inoltre, perché so che me lo avverrete a chiedere, parte avampiede. Non è particolarmente grande, nel senso è un pochino più grossa rispetto alle scarpe, ad altre scarpe da trail, però parliamo veramente di pochi millimetri. Se siete persone che hanno un avampiede particolarmente grosso o prendete un numero in più, un mezzo numero in più, andatela a provare naturalmente, oppure cambiate scarpa perché non ha un avampiede così generoso. Infine, parlando di soletta, questa è proprietaria di Ekatron, mi sono trovato nel complesso bene. Proprio se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, ci mette un pelo di più ad asciugarsi quando andiamo a bagnare la scarpa rispetto a solette, diciamo, di altre marche. Ma è proprio cercare il pelo nell'uovo, per il resto funziona molto bene. Perciò, in conclusione, vi consiglio queste Evadict XT8, Sì, dico per realtà, io mi sono trovato veramente bene e mi ha stupito le tecnologie utilizzate rispetto al prezzo. Cioè, 80 euro, questa è veramente un'ottima scarpa, soprattutto per chi inizia, per chi non vuole spendere tanto, ma comunque vuole una scarpa bella strutturata col quale farci un po' tutto. È una scarpa col quale possiamo fare dalle corse più brevi alle corse un pochino più lunghe, nel senso che io una 50 km con questa calzatura la farei senza problemi. Per che tipo di runner? Come vi dicevo, il principiante? Sicuramente. L'intermedio? Anche. L'esperto? Meglio di no, perché la reattività è buona, ma quando si scende sotto un certo passo si sente che è comunque molto ammortizzata. Che dire, in generale, è una scarpa che mi è piaciuta, non fosse per la suola che sul bagnato non mi ha convinto, ma in generale ci tengo anche a precisare che questa scarpa mi ha dato un grande senso di durabilità. Tutta la suola, tutti i materiali utilizzati, eccetera, nonostante ci abbia fatto veramente tanti chilometri, è ancora super integra. Sporca, perché l'ho utilizzata, però molto integra. Secondo me con questa scarpa è arrivata a mille chilometri senza tanti problemi. E proprio per finire, scarpa che può andare bene anche per chi ci fa trekking, per chi ci fa camminate e roba del genere, quindi va bene anche per quell'utilizzo. Dato ciò, ragazzi, io nella speranza di essere stato esaurito e risaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!